Quando ci sono delle brutte giornate in Germania, comunque ci sono tante occasioni per passare il proprio tempo e così imparare, conoscere e vedere qualcosa. Oggi ci troviamo alla fiera di Stoccarda per passare una domenica diversa e anche per imparare qualcosa di nuovo. Qui ci troviamo in particolare in modo per lo slow food. Tra le altre cose c'è la fiera dello slow food, c'è la fiera dello yoga, della creatività, del tempo libero, insomma tantissime occasioni per imparare qualcosa e passare una domenica diversa. Andiamo a farlo insieme. Grazie a tutti. Vengo a Stoccarda da tanti anni, con tanto piacere, porto il mio prodotto tipico siciliano, perché io non sono un commerciante, sono un produttore, che produco, trasformo, non solo Stoccarda, faccio un po' il giramonto. Per educare soprattutto i tedeschi, vi spero che in che senso educare. Il mio prodotto principale sono le olive. Le olive le faccio tutte confezionate, perché è un prodotto più igienico. Siamo in Italia, vendere olive sciolte non va. Vedi i prezzi? Io faccio prezzi alle famiglie. Hai visto? Una tuta, 5 euro, 3, 10 euro, 5, 15 euro. Oggi, ultimo giorno, sto facendo 7 tutene a 20 euro per le famiglie. Saluto a tutti, è stato un piacere. Sono Pippo Cortesi di Adrano, provincia di Catania, olivicoltore. Ciao a tutti. Ciao. 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 Guarda che bruschetta, guarda il tocco, il tocco, il tocco, l'oligano. Perché queste giornate sono tristi. E il cuore... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.